Da un paio di giorni all'Aquila, negli hub vaccinali, si stanno facendo richiami alle persone che già avevano avuto la prima dose di AstraZeneca. Tutto si sta svolgendo regolarmente e al momento sarebbero davvero pochissime le rinunce alla seconda dose mista, il cosiddetto mix, lo switch in termini tecnici, disposto dal Ministero della Salute che prevede che le persone possano avere la seconda dose di Pfizer o Moderna. In città si sono già fatte diverse somministrazioni di seconda dose con Pfizer agli under 60 che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca, ma non mancano le perplessità e i timori e si sono presentate negli hub anche persone che avrebbero voluto pure la seconda dose di AstraZeneca o che hanno rifiutato in sede il richiamo misto. Tra le persone che hanno avuto la seconda dose di Pfizer c'è Fabiana Milani, un'aquilana, che ammette di aver avuto qualche perplessità, ma alla fine ha vinto la voglia di terminare il ciclo vaccinale. Sicuramente ero perplessa, un po' in ansia e il medico dell'Asla mi ha contattata il giorno prima e mi ha detto che mi avrebbero fatto un protocollo misto. Lì per lì qualche titubanza, qualche ansia e sono stata tranquillizzata dal medico che mi ha detto che non c'era nessuna contraindicazione ed eccomi qui, sana e salva dopo un protocollo misto. Ci vogliono salvare, non ci vogliono ammazzare, questo è il mio punto di vista. Ora il timore è quello legato alle dosi. Ci sono circa 10.000 persone in provincia che dovranno avere la seconda dose di Pfizer tra fine luglio e agosto. Tra oggi e domani intanto è prevista la consegna di ulteriori dosi, perché entro fine mese vanno assicurati circa 2.000-2.500 richiami. Pochissime rinunce, le vaccinazioni stanno comunque andando molto bene. Chiaramente avremo un qualche problema con il fatto che dovremo avere un approvvigionamento maggiore di vaccini a mRNA, cioè Pfizer o Moderna, ma ce li attendiamo a brevissimo tempo. Il messaggio rassicurante, avete visto che in molti paesi europei, soprattutto la Germania direi, il vaccino a mRNA unito col vaccino a vettore virale era già stato effettuato, cioè la doppia dose, già dal primo aprile in Germania. E si sono visti, ci sono già studi in Germania che dimostrano l'ottima efficacia della combinazione con un gran numero di produzioni di anticorpi. Quindi il messaggio è sicuramente rassicurante. Quello che vogliamo fare chiaramente è difendere le persone da quello che è una nuova ondata. E questa è sicuramente la maniera migliore di affrontarlo.